Buongiorno e bentornati in AutoSmile. Oggi vi presentiamo questa Volkswagen Polo allestimento Comfortline 5 porte, è un 1.6 turbodiesel 90 cavalli, sono 66 kilowatt. È unico proprietario, ripeto unico proprietario, è dell'ottobre 2012 come immatricolazione e ha 174.800 chilometri. È revisionata, tagliandata e anche questa vettura gode della possibilità della garanzia da 12 mesi estendibile fino a 2 anni. E anche lei può essere finanziata con lo 0% di anticipo. Comunque adesso andremo a scoprirla. Cerchi da 15 pollici. La consideriamo un'occasione molto interessante rendo conto del prezzo che è favoloso, che è unico proprietario del 2012, è un turbodiesel molto economico da mantenere. Fari fendinebbia. Noi cerchiamo sempre di trasmettervi la qualità delle auto che selezioniamo per voi dai filmati e dalle fotografie che facciamo. Comunque, voi non fidatevi di noi. Ci contattate, prendete appuntamento e venite a provare e visionare la vettura. Un appuntamento per sapere anche se è ancora disponibile per la vendita. Anche questa è finanziabile al 100%, con lo 0% di anticipo. Molto bello il bagagliaio. Vettura tenuta bene fuori ma internamente è incredibile. Tutto rivestito in moquette con il doppio fondo e i sedi riposteri sdoppiabili. Vedete il doppio fondo, si alza per avere molto più spazio. E poi sotto al doppio fondo c'è la ruota di scorta. Guardate il pannello porta posteriore e i sedili posteriori. Qui dietro vedete lo spazio per le gambe molto ampio. Tenete presente che è sempre un segmento B, una vettura, una city car considerata un tempo. Ma tre persone anche di stature a medio alta stanno comode sul divanetto posteriore. Pannello porta anteriore lato passeggero. Sedile passeggero e di guida regolabili in altezza. Guardate come sono tenuti i sedili. Anche quello di guida, ripeto, 174.800 km. Ovviamente la vettura è con la chiave e doppia chiave, tutti i manuali, uso e manutenzione. Vettri elettrici anteriori e posteriori. Specchetti regolabili elettricamente sbrinabili. Guardate com'è tenuto il sedile. Molto bella e classica strumentazione analogico-digitale. Climatizzatore. Sopra un vano porto oggetti. E poi l'autoradio con il lettore CD. Molto pratico. Tasto dell'ESP. Controllo stabilità elettronico. Molto spaziosa stare qui sul ponte di comando di questa bellissima Volkswagen Polo del 2012. E adesso andiamo a visionare questo bellissimo 1.6 quattro cilindri turbodiesel 90 cavalli. Un motore molto molto economico da mantenere sia come assicurazione sia come consumi. Guardate com'è tenuta la macchina, com'è tenuto il motore. Noi dall'immagine cerchiamo di farvi capire la vettura, appunto le condizioni. Riassumendo, questa Volkswagen Polo 1.6 turbodiesel 5 porte allestimento Comfortline, unico proprietario del 2012 con 174.800 km, è disponibile presso la nostra sede di Secuignago in provincia di Lodi. Contattateci prima di venire a visionare e provarla, così sarete certi che sia ancora disponibile per la vendita. È finanziabile la vettura ed è garantita 12 mesi. Vi aspettiamo per una prova su strada.